Una ragazza si voleva... Ha rovinato la vita ad un uomo innocente. Solite stronzate che succedono su internet, ma... Vediamo. Una ragazza si voleva così tanto vendicare di un ragazzo di cui era gelosa da creare una chat falsa in cui fingeva di aver scoperto un suo test HIV positivo, sottimitendendo quindi che questo ragazzo avesse l'abitudine di avere rapporti non protetti trasmettendo a tutti il virus. Inutile dire che questa ragazza gli ha rovinato la vita, dato che l'ha reso vittima di innumerevoli minacce e insulti da parte di tantissima gente e il ragazzo ha anche provato a togliersi la vita e ha ottenuto screen... Scusami, sono 29 secondi di video. Non bastava andare a fare il test e dimostrare a tutti che il test fosse negativo? Risolvendo così tutti i problemi? O sono io che sbaglio pensando così? Ciao Flagellux! Sì, ad inquisitore, esatto. Però lì era un attimo diversa la storia, la sua. ...farlo. Ma questa storia, per quanto tragica, ha un po' un lieto fine, ve l'assicuro. Andiamo subito a vedere tutto ciò che è successo nel dettaglio. Volevo però prima ringraziare Hope of Silence, Super Matteo, Catamarano, The Real Red, Dio Colgate, Sparassemessi, Voltinger e Cristo e Giulio per le donazioni. Caspita, grazie mille a tutti, siete in tantissimi ormai a sostenere il canale e io vi prometto di continuare a fornirvi intrattenimento anche nei periodi più densi di impegni. Periodi come questo, purtroppo, ma il vostro supporto dà tantissimo la carica. Continuiamo quindi con l'argomento del video di oggi. Qui abbiamo lo screen della chat simulata dalla ragazza e possiamo leggerla. C'è la ragazza che scrive Allora, in pratica lei sta fingendo di avere il test per l'HIV con esito positivo e quindi chiede al ragazzo, Jonathan, che in realtà è sempre lei con un profilo falso, da quanto tempo sapeva di averla anche lui. Quindi sostanzialmente lo sta accusando di averglielo passato. Il ragazzo, tra virgolette, risponde di scusarsi tanto. Lei scrive come hai potuto fare questo a me, la mia vita è finita e lui replica di pentirsi di averle passato il virus ma di non essersi potuto trattenere dall'andare fino in fondo con il rapporto e sostiene di avere l'HIV da sette mesi. Come detto, la chat è simulata. Questa ragazza aveva così tanto astio da decidere di rovinare la vita a questo ragazzo. Anche al costo di rovinare la sua stessa reputazione, perché comunque non deve essere esattamente positivo il fatto che la gente pensi che anche tu hai l'HIV, però ha comunque... Cioè, ma come... come cazzo ti viene in mente? Ma non pensa il fatto che esistono, prima cosa, i test che può fare anche lui per dimostrare che non è vero? Seconda cosa, gli screenshot da parte sua, del ragazzo, delle chat, che magari non sono esistenti... Cioè, che lei che ha scritto e inventato tutte. Ma la gente è stupida? Cazzo, è veramente stupida sta gente. ...decisò di rovinare la vita al ragazzo e ovviamente in epoca social tutto ciò è stato facilissimo. Questo screen è stato infatti messo online... Quello è vero, si diffonde in un attimo e la gente crede a quello che vede. Il cognome del ragazzo è foto della sua faccia allegata e circa una mire ha attirato l'attenzione di decine, di centinaia, di migliaia di persone che si sono affiondata a dire di tutto al ragazzo, con minacce anche pesanti. Su internet è come se la gente non vedesse l'ora di trovare la prossima vittima sacrificale da attaccare e lo fanno come spinti da una forza innata, non me lo so spiegare. Ognuno nella sua quotidianità si fa i fatti suoi finché non trova l'ennesimo osso da spolpare. E lì ci si accanisce anche contro perfetti sconosciuti, ma senza alcun motivo. È giù di video su video, anche con milioni di visualizzazioni su TikTok, di gente che insultava, metteva all'agonia mediatica questo ragazzo, senza fare minimamente fact-checking. C'è tipo questo post in cui viene repostato tutto, probabilmente amica di Simona senza il cognome, questa qui perché è imbarazzante, come solo per sentito dire, abbia messo all'agonia questo ragazzo. E ovviamente le minacce sono state estese anche alla sua famiglia, la gente ha trovato l'indirizzo, quindi la sua abitazione, e ha iniziato a presentarsi sotto casa del ragazzo. Al che il nostro Jonathan ha postato, mi sa che ve l'ho messo in sovrimpressione, una storia in cui minacciava di farla finita. E la gente in DM che cosa ha fatto? Gli ha scritto di farlo. Ma quanto può far schifo la gente, per inciso? Tipo, mi vorrei togliere la vita, fallo. Il ragazzo che si è tolto la vita in seguito a false accuse sui social è la stessa cosa. E tutto questo perché, sconosciuti a caso, si sentono in qualche modo in obbligo di sfogare le proprie frustrazioni. Ah, ma ovunque è così, è ovunque. Ma poi io dico, anche se avesse sul serio diffuso l'HIV a macchia d'olio, questa cosa è già illegale di suo e quindi ne avrebbe pagato le conseguenze comunque. A che servi tu che scrivi queste robe? A che serve la gente che ti si presenta sotto casa? Tutti quelli che insultano con una facilità assurda ignorano le ripercussioni psicologiche, anzi, secondo me, gliele augurano, e non si rendono conto che un domani un loro ex o una loro ex potrebbe farli finire nella stessa situazione. Ma finché non capita a loro, ragazzo, no, nel chilling. Di un altro messaggio riguardo la storia di lui che vuole farla finita, questo qui è incredibile. In pratica questa ragazza ha repostato la storia di Jonathan e ha scritto Ottimo, filmati mentre lo fai e mandamelo prima di vedere la luce, sempre se tu dovessi finire in paradiso. E ci sono un casino di messaggi di ragazze così che lo incitano a farlo con una leggeressa assurda. E capite perché ho fatto questo video contro quella che voleva creare una lista di uomini accusati di stalking o altro senza minimamente controllare le fonti? E anzi, godo che questi video abbiano fatto quasi centomila visualizzazioni in due. Bisogna diffondere la voce e troncare sul nascere queste iniziative. Se no questo è quello che succede, questo è quello che dovrebbe essere all'ordine del giorno. Il bello è che c'erano anche ragazze che davano ragione alla creatrice della lista sotto nei commenti o in live su Twitch. Comunque ora vi faccio vedere un live streaming in cui il ragazzo è andato a ritirare i vari test per l'HIV dimostrando, guarda un po', che non c'era traccia neanche per fortuna. Figuratevi. Quello che ho detto io, esatto. Vedi, ha fatto il test, giusto? La prima cosa che devi fare. E voi direte, bene, questo è il lieto fine che avevi anticipato. E' peccato che ho mentito perché non è andato per nulla bene. Perché innanzitutto tu da un giorno all'altro ti ritrovi a dover fare questi test perdendo tempo per provare la tua innocenza nei confronti di accuse campate per aria ma alle quali credono tutti senza farsi domande. In più, ragazzi, voi sul serio pensate che queste prove abbiano fatto il giro del web tanto quanto le accuse false? Ma assolutamente no. Perché le accuse sono state ripostate in massa da pagine in difesa delle donne, dagli uomini cattivi che esse ne sbattono del loro gigantesco potere mediatico perché la frustrazione sorpassa la logica che ti dovrebbe far verificare le fonti prima di inviare la schiera di scimiurlatrici sotto casa di qualcuno. Cioè, non è assurdo che le prove oggettive girino meno di uno screen falso creato per gelosia? E il bello è che non tutte le tipi indignate hanno creduto al test negativo quindi alle prove oggettive però quelle stesse persone hanno immediatamente dato corda allo screen falso è paradossale vedo un po' di aria di bias e sapete perché questa cosa è accaduta? Perché Jonathan, questo ragazzo, non ha speso abbastanza soldi per questa ragazza quando stavano assieme? Vi posto infatti un estratto di audio purtroppo parlando in uno slang molto marcato quindi vedete se voi capite qualcosa ma il senso è quello Quindi tu metti all'aggogna pubblica un ragazzo perché non paga abbastanza per te? Tutte le femministe credono alle storie della TV perché uomini cattivi non abbiamo bisogno di prove Com'è che diceva Valeria Fonte tutti gli uomini colpevoli fino a prova contraria? Ecco a te Questo è quello che succede applicando questo ragionamento il ragazzo fino a prova contraria è stato giudicato colpevole la gente ha trovato il suo vero nome il suo indirizzo è andato da sotto casa sua è stato incitato a togliersi la vita ora la prova contraria c'è ma indovinate non ha fatto abbastanza notizia mentre le accuse false l'hanno fatta e come? Il bullismo di massa, le minacce e i danni psicologici ci sono stati e come? Questo signori è il metodo Valeria Fonte quindi continuiamo ad accusare tutti non c'è stata assolutamente nessuna avvisaglia negativa nell'ondata di aggressività nei confronti di tutti gli uomini senza distinzione Anche perché sta gente è pericolosa vedete quando trovano anche l'indirizzo di casa ti si presentano sotto casa tu non sai cioè magari sono anche in America tu non sai cosa queste persone ti possono fare sembrano veramente delle guarda non voglio neanche dire scimmie perché scimmie sono più intelligenti sembrano tipo persone lobotomizzate senza un cazzo di cervello che arrivano e ti possono fare del male per cosa? per una cosa che non esiste per una cosa che hanno letto online per non si sa che cosa per anni e anni di lavaggio del cervello cose di questo tipo non c'è veramente gli eventi che hanno coinvolto Giulia ma tutta la grande ci aspetta un futuro roseo quindi ragazzi festeggiate finché potete mi raccomando abbiate paura perché domani potrebbe finirvi come lui senza alcun motivo condividete il video per diffondere queste bellissime notizie ai vostri amichetti se volete donate anche voi per sostenere il canale e noi ci vediamo alla prossima bel video come sempre ho spiegato bene però queste storie raga mi mettono una tristezza incredibile veramente troppe cose brutte succedono cioè come puoi rovinare la vita veramente a una persona in pochissimo grazie a tutti